Bentornati a Divinity Original Sin, andiamo avanti, allora se non sbaglio è Ovest, no no cazzo devo andare giù al porto e rifare tutto il viaggio, qui passaggi dubito che ci sia Sì, vabbè Un pianino Vediamo se magari ho fatto fuori qualcosa che ho tralasciato prima, perchè Ho fatto la strage questo forziere qua Quattro prima non era stato così cattivo e ma cazzo vado a fare qua non servono servono tutti ma bisogna giocarsi nel modo di fare saranno degli ingani granate qua Donde è l'acqua io? Si Eh, cosa so far? Roderick è praticamente andato provare ad utilizzare io la l'elettricità è uno scontro difficile che aveva vinto qua con l'astucia perché i bergamenti non sono tanti Pila! sbagliato cazzo di buddha complicata la faccenda vabbè lo fa a far esplodere questo mi sembra una buona idea perché poi durante il durante il combattimento non ci riesco poi c'è questo che è un barile d'acqua però è fuori portata da girarle questo poi è uscita Grazie a tutti Grazie a tutti E gli ho fatto molto male Allora Roderick Vediamo un po' Vediamo un po' Qua ci vuole una pergamena di quelle che Fanno del male Oppure una granata tempesta di fuoco Anche perché no Pampata Ma dove la tiri, dove la tiri, testa di cazzo Madonna è bloccata dalla paura Grazie a tutti Grazie a tutti Porco sciamano di merda Grazie a tutti Non vedo lo sciamano Pezzo di merda Che è quello più Eh boh E' quello là dove è la merda I can see the white light Grazie a tutti ho atterrato molto bene dunque questo non riesco a capire se è sotto combustione quello che sennò è inutile speriamo passano abbastanza punti no merda merda non è morto scarlet si non 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 arrivando come fate devo bloccarlo in qualche modo Grazie a tutti. 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 B... è... Oh, no... ma non posso ancora... e... quali... puro... va bene... per quanto riguarda... 40-50-4... partine armature... la cosa migliore... la cosa migliore... è... il 10%... il 10%... è... 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 quindi... 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 sembra... 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 non mi ricordo... non mi ricordo neanche quando ho iniziato a registrare... quindi... un po'... dunque... per oltre... per oltrepassarla... per oltrepassarla c'è da farla sparire... come cazzo... facciamo... dalle fuoco... non funzionerà... non c'è niente... non c'è niente... vediamo cosa succede ad andare lì dentro... l'ordimento e non si muovono più... ah... cazzo... devo far passare di livello tutti però... vabbè... passo il livello poi chiudo il video... allora... armature... pum pum... bella difesa... mi interessa relativamente con... con l'archer... perchè... mi tengo il punto... però... avevo concentrazione... lo metto contro... contro le... eh... però cazzo... due punti qua... via... anche gli attacchi furtivi non li ho ancora... non preciso quando il bersaglio dice... beh... questo mi può interessare... un momento pirocineta... un momento pirocineta... ok... rallentati... meno matri... atterrati... eh... atterrati... potrebbe essere interessante... perchè... comunque ne ho due che hanno... atterramento... la vita... questa non interessa... questa non interessa... lo vabbè... mi puoi guardarti con il veleno... ma... no vabbè... ehhhh... questo... almeno quando ho l'energia... ho l'energia... ahhh... ma... ho l'energia... e qui direi che va bene perché siamo sempre a battagliare e quindi faccio bullo buon ragazzi chiudo qui e andiamo avanti la prossima volta e cercheremo di passare oltre questa nuvola qui quindi vi saluto alla prossima